Bentornati su Newswave, un formatino espresso in cui parliamo delle news delle ultime settimane riguardanti la corea e il kpop che hanno attratto di più la nostra attenzione. Questa settimana è un casino di roba, eh. Sigla! Allora, iniziamo subito con lo scontro tra titani che da giorni sta monopolizzando i siti di news. New Jeans vs Highlit, o meglio Ador vs Hybe, o ancora meglio Min Hye Jin contro se stessa. Visto che alla fine se le sta cantando e suonando da sola. Ma ricapitoliamo dal principio per chi se la fosse persa. Fin dal debutto le Highlit sono state paragonate alle New Jeans per presunta somiglianza di approccio, estetica e sonorità. E Min Hye Jin, la CEO e responsabile delle New Jeans, ha accusato la Hybe e di conseguenza indirettamente le Highlit di essere un plagio. Per capire però bene la questione è importante ricordarsi questo. Le Highlit sono un gruppo della Hybe, mentre le New Jeans sono sotto la Ador. Ed è vero che le New Jeans spaccano le classifiche da due anni e le Highlit han debutato con Vibes che in qualche modo le ricordano. Ma è anche vero che la Hybe è all'80% proprietaria di Ador e di conseguenza detiene l'80% della gloria delle New Jeans. Mi sembra chiaro però che se ho una formula vincente all'interno della mia agenzia cercherò di svilupparla in più modi possibili. Pare inoltre che Min Hye Jin volesse rendersi indipendente dall'Hybe. E molti pensano che le diverse dichiarazioni, alcune delle quali abbastanza rifamatorie legate all'Hybe e ai suoi artisti, siano state fatte proprio da lei nel tentativo di distaccarsi appunto dall'agenzia e di farne un po' perdere la credibilità agli occhi del pubblico. Nella conferenza del 25 di aprile, Min Hye Jin coglie l'occasione anche per togliersi qualche sassolino della scarpa e per smascherare un po' i giochi di potere a suo dire ingiusti all'interno dell'Hybe. Dichiarò infatti che le New Jeans non abbiano ricevuto lo stesso sostegno di altri gruppi di Hybe o delle sue sottoagenzie e che il debutto delle New Jeans sia stato obbligatoriamente posticipato per far debuttare prima le Seraphim della Source Music, dimostrando ancora una volta il poco interesse e impegno verso Ador e verso le New Jeans. Inoltre dichiarò di essersi occupata quasi completamente da sola delle New Jeans fin dal predebutto e infatti molti la definiscono la testa delle New Jeans e temono che dopo questo le New Jeans non saranno più le stesse. Al centro però di tutto il discorso rimangono comunque Highly e New Jeans, il pubblico infatti si è molto preoccupato e Hybe ha cercato di calmare le acque dichiarando che in ogni caso sarà sempre anteposto il benessere degli artisti e che l'imminente comeback delle New Jeans si farà come da schedule. Questa faccenda ha sicuramente scaldato molto gli animi ma siamo davvero curiosi di sapere la vostra opinione nei commenti. Next! Se per caso in settimana ci avete sentito urlare è sicuramente colpa loro. Gli ATEEZ annunciano il prossimo tour e dopo diverse date città molto lontane da noi scritto in piccolo in coda alla pagina gennaio barra febbraio 2025 Europa Stay Tuned. Sì amici europei ed italiani avete sentito bene, il 2025 potrebbe regalarci un altro world tour dei pirati di KQ. L'ultimo si era fermato al comeback di Guerrilla e infatti nel tour non era stata inclusa all'Asia. Non vediamo l'ora di scoprire la tracklist del nuovo tour e siamo davvero contenti che gli ATEEZ non si dimentichino mai di noi e che cerchino sempre di includere l'Europa nei loro tour. Inoltre dopo la seconda esibizione alcocella, oltre alla caduta di Minghi sul palco, il capitano Hong Joong ha spoilerato in The Real il titolo del nuovo mini album, Golden Hour parte 1. Il comeback è previsto per il 31 maggio e noi non vediamo l'ora di sapere di più. Stay Tuned! Prossimo! Passiamo ora alla rubrica dedicata ai comeback, quelli che ci hanno colpito e di cui si è parlato di più. Zico e Jennie delle Blackpink ci regalano una collab fantastica con il brano Spot. Jennie super super carismatica e Zico che dire non ne sbaglia una, davvero super figo vederli insieme. Esce Freak di Ugi delle Idol, un titolo una garanzia, lei sempre carica e quel rosso di capelli è da paura. Tanto quanto l'MV. I Rise, i miei genitori, tornano con Impossible, brano super house su cui è impossibile non ballare. Concept pazzesco e coreografia potentissima. I Seventeen con il nuovo comeback maestro. Ci insegnano che oltre a non sbagliarne una, i loro dance break sono anche tra i più forti. E ci delizzano con un footwork davvero fotonico. Li amo. I Boy Next Door con Earth, Wind & Fire, travolgenti, pieni di energia, comeback super divertente e loro talentuosissimi. Degni figli di Zico. Torna Vujin con il nuovo singolo I Like The Way. Nuova agenzia significa anche aria nuova, canzone e coreografie diverse da ciò che ci aspettavamo. Ma malgrado questo Vujin se l'è cavata davvero bene. E dobbiamo dire che in queste vesti non ci dispiace. Esce per BM dei Card il primo EP Element. E con la nuova canzone Nektar ci delizia con un sound tutto nuovo che gli sta addosso alla perfezione. Vogliamo più BM in questo mondo. E se non l'hai ancora fatto vai ad ascoltare BM dei Card. Le Hive tornano con Hey Ya. Concept pazzesco e loro come sempre non deludono le aspettative. Super on point. Passiamo ora invece alla lista dei comeback in arrivo prossimamente. 13 di maggio Zero Base One con You Had Me At Hello. 23 maggio comeback di Sujin con il secondo EP Riz. 24 maggio New Jeans con How Sweet. Sempre il 24 maggio RM con il suo nuovo album Right Place Wrong Person. Il 27 maggio nuovo comeback dell'espa Armageddon. 30 maggio troubleshooting per gli Exynary Heroes. Abbiamo anche un nuovo debutto. Infatti esce la tracklist e trailer di Right The Vibe. Debutto dei Nexi, nuovo boy group della JYP. Io la dico, chissà che i Nexi aprono il concerto degli Stray Kids a luglio agli Hey Days. Infine, a proposito di Stray Kids, aspettiamo il 10 maggio l'uscita del singolo Lose My Breath degli Stray Kids con Charlie Putt. E ora passiamo alla rubrica più attesa del canale, la carrellata di notizie dette velocemente perché qua le news corrono, dobbiamo già fare un altro episodio. Random Play News. Le idol si esibiscono al Music Bank in Belgio con una sostituta mascherata di Yugi. Lei manda un videomessaggio giustificando la sua assenza per la schedule del suo comeback solista Freak. Loro clamorose come sempre, speriamo davvero di poterle vedere dal vivo. Esce il nuovo format di Seungmin degli Stray Kids. Song By. Format interamente dedicato al canto e alla musica. Nel primo episodio, Seungmin ci ha cullato sulle note di Love Poem, cantata in precedenza a Kingdom, insieme a Jongho degli ETs e a Silverlight dei V2B. Esibizione indimenticabile. Torna finalmente Road to Kingdom, dopo quattro lunghissimi anni. Non vediamo l'ora di scoprire chi parteciperà. Per ora i rumors dicono Gravity, ATBO, Psykers, The New Six, Unite e Etern. Attendiamo speranzosi di saperne di più. Le Eilith cambiano il nome del loro fandom in Lily e conquistano il pack. Partenza più che ottima con questo debutto e speriamo che il trambusto mediatico delle ultime settimane non comprometta il loro percorso. Vieni con noi in Corea del Sud. K-Wave parte per la Corea del Sud. Ad ottobre potrai visitare Soul con altri amanti del K-Pop e vivere un'esperienza indimenticabile insieme a noi. Ti lasciamo in descrizione il link per tutte le info. Qui non si parla di K-Pop, ma di un artista a cui teniamo molto. Hannah Bang. Escono tracklist e fotoconcept del primo EP e Bismol, contenente sette tracce tra cui le due che abbiamo amato tutti, Perfect Blues e Ole Under. Le auguriamo davvero un grande bocca al lupo. Ottimo percorso anche per le Baby Monster. Oltre agli ascolti da record e a successo internazionale, diventano ambassador per Adidas. Ed entrano anche loro nella lunga lista di idol che quest'anno stanno rappresentando brand famosi. A proposito di brand ambassador, il Met Gala si sta avvicinando e abbiamo qualche possibile predizione per qualche partecipazione di idol coreani. Dior sarà un brand super presente all'evento e ciò ci fa pensare alla possibile presenza di Giso delle Blackpink. Allo stesso modo come ambassador di Saint Laurent, potrebbe esserci Ten degli NCT. Ci fanno ben sperare anche Ning Ning e Yun Jin, il principe di Versace, insieme alla donatellona nazionale. E un Felix, il Louis Vuitton, ci farebbe molto piacere. Facci sapere nei commenti quali sono le tue predizioni. Ed eccoci arrivati alla fine, grazie per aver seguito News Wave. Iscriviti se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo episodio.